Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per i bambini. Sono qui con questo Playmobil City Life che in realtà rappresenta una parte della Luxus Villa che abbiamo già visto negli scorsi video, protagonista di alcuni episodi con la famiglia Vogel e in particolare questa è la Guest House, cioè la parte per gli ospiti, no? Sapete che nelle case grandi, soprattutto nelle ville, c'è la possibilità di avere degli spazi riservati completamente agli ospiti che vengono in casa a trovare appunto i padroni di casa, insomma uno spazio tutto per loro e questi sono tutti gli oggetti che possiamo trovare all'interno di questo magnifico set con camera da letto, bagno, cucina insomma tutto quello che serve per trascorrere un bellissimo soggiorno dagli amici come vedete ci sono tantissimi sacchettini, qui abbiamo la parte del tetto che è nero come vedete poi qui abbiamo per esempio un micino, vedete un gattino, abbiamo anche alcuni personaggi, la ragazza in costume perché appunto come abbiamo visto anche nella puntata proprio della famiglia Vogel la Luxus Villa ha questa piscina bellissima, abbiamo varie cose, il bagno, tavolo eccetera, le colonne portanti, altri pezzi tv, sedie, tavolini, varie piante, insomma tutto da montare quindi armatevi di pazienza e di istruzioni soprattutto e vi metterete a lavorare a questa guest house proprio che metterete vicina alla Luxus Villa anche qui pezzi di pavimento, appunto le basi, qua ci sono le finestre e altri avete questi pezzi di giardino per esempio con i fiori, le piante, qui c'è un pezzo di bagno lavandino, qua sempre altri pezzi della casa, insomma tu ecco qua anche qui vedete altre piante posate perché ovviamente servono anche quelle nella guest house insomma tutto l'occorrente per creare veramente una guest house con i fiocchi, è un soggiorno da re, da favola insomma fatemi sapere qualcosa, cosa ne pensate, ricordatevi di lasciarci un like se vi è piaciuto di seguirmi sul canale e registrarvi gratuitamente per rimanere sempre aggiornati con me ciao